Domenica scorsa, nel campo Dompino Puglisi di Altofonte, la Nista Rugby ha subito una dura sconfitta dal Palermo Rugby. Il 15 nisseno, che aveva perso la partita in casa nel girone di andata contro la squadra di Palermo, si è dovuto arrendere alla superiorità dei giocatori della squadra capolista, che è riuscita a segnare ben 16 mete, vincendo alla fine per 96-0. Una gara comunque giocata a viso aperto dagli atleti nisseni, che ce l'hanno messa tutta e hanno fatto del loro meglio per provare a limitare la superiorità del Palermo Rugby. Era prevedibile che questa non sarebbe stata una gara in cui puntare a fare il risultato, dato che i giocatori del Palermo sono di un livello più alto rispetto alla categoria. La squadra nissena adesso farà di tutto per riprendersi dall'ultima dura sconfitta e si concentrerà sugli allenamenti, per recuperare le energie psicofisiche per arrivare preparata al meglio alla prossima partita, che la vedrà scontrarsi contro il San Gregorio di Catania. La speranza è che i tanti atleti infortunati o non disponibili possano tornare presto a gareggiare con i propri compagni, per poter affrontare insieme e uniti le prossime sfide. Questi gli altri risultati della dodicesima giornata di campionato. San Gregorio Catania contro Unione Rugby Enna è finita 22-17, con 4 mete a 3 per il San Gregorio. Merlos Milazzo contro Siraco Rugby Club è finita 15-55, con 2 mete a 9 per il Siraco. Il risultato finale della partita Ragusa Rugby Union contro i Briganti è stato 25-17, con 3 mete a 2 per il Ragusa. Il turno di riposo è toccato ai Lions Messina.